Si è concluso domenica scorsa Blue Sealand Expo The Cluster del Mediterraneo, Africa e Medio Oriente. È tempo pertanto di tracciare un bilancio complessivo in numeri di questa settima edizione, ma anche di fornire alcune importanti anticipazioni relativamente alla prossima. Circa 150.000 visitatori nei quattro giorni dell'Expo. Le strutture ricettive del territorio hanno fatto registrare il tutto esaurito. Oltre 40 le delegazioni di Europa, Mediterraneo, Africa, Medio Oriente e Asia. Circa 100 tra convegni e incontri avvenuti nel corso della manifestazione. Guinness dei primati del profitto è roll 230 kg realizzato dai maestri pasticceri mazzaresi. 600 studenti hanno collaborato attraverso l'alternanza scuola-lavoro con l'organizzazione della manifestazione. Numerosi contatti sono stati avviati per accordi nell'ambito di diversi settori, filiera ittica, dalla cantieristica alla commercializzazione, ambiente, ricerca scientifica e sociale. Innanzitutto, al fine di fugare ogni dubbio e smentire alcune false voci circolanti, ha sottolineato il presidente del distretto della pesca e crescita Blu, Nino Carlino, annuncio che la prossima edizione di Blu Sealand, l'ottava, si terrà a Mazzara del Vallo e si svolgerà dal 17 al 20 ottobre 2019. Ciò è stato deciso sinergicamente con il governo regionale, Maeci e il comune di Mazzara del Vallo. La città di Mazzara, ha spiegato Carlino, per via della sua storia, per la sua interculturalità, per la sua vocazione produttiva, rappresenta il luogo naturale di Blu Sealand, così come l'aveva concepito il suo ideatore, il compianto Giovanni Tumbiolo. Oltre 40 delegazioni partecipanti, ha ribadito Carlino, hanno fatto di questa edizione già un successo. Il modello del cluster delle imprese, secondo i principi della Blu Economy, è piaciuto molto ai paesi partecipanti, alcuni dei quali hanno espresso la volontà di riprodurlo nei loro territori. Sono stati avviati importanti contatti con una delegazione imprenditoriale egiziana per la collaborazione nella filiera ittica, dalla cantieristica alla commercializzazione dei prodotti ittici. Contatti, ha aggiunto, anche con il governo della Liberia, che potrebbe riaprire, dopo la guerra civile, i propri mari e i pescherecci siciliani. E sono state poste le basi per la creazione di un modello distrettuale anche con la Repubblica del Ghana.